Se i temi sono due, la manovra del governo e il ruolo dei comuni, io penso che i comuni oggi come oggi sono la leva fondamentale per salvaguardare la democrazia e per applicare anche le politiche di uguaglianza. I comuni e pertanto la città sono il luogo delle contraddizioni, del conflitto, ma anche dell'innovazione, delle novità, della praticabilità di nuove politiche. Per esempio, quello che ci diceva prima l'ottimo sindaco Stirati, che a Gubbio l'innovazione è il taxi sociale per affrontare una cosa abbastanza cervellotica, che se uno si deve curare e sta a Gubbio lo mandano a Terni. Cosa che è successa anche a me personalmente, che per fare il vaccino doveva andare a Orvieto. Cioè, voglio dire, io ho la macchina, prendo e c'è vario, ma voglio dire, se c'è un pensionato, una famiglia, marito e moglie, anziani, cioè diventa complicato da Gubbio arrivare a Orvieto, oppure adesso ho detto Gubbio e Orvieto per dire due città dell'Umbra, che, voglio dire, una delle ipotesi è questa, ma anche di portare la spesa a casa per una famiglia di anziani diventa complica. E allora, per esempio, il taxi sociale diventa un provvedimento innovativo che ha forti connotazioni sociali al servizio della cittadinanza. Perciò il Comune, in quanto tale, certo, non dovrebbe essere oggetto dello strangolamento finanziario che viene perpetuato, e dai tagli che da trent'anni a questa parte le amministrazioni comunali subiscono. Questo è il punto. E sono sottoposti allo stress del bando. Cioè quello che prima poteva essere considerato un diritto delle comunità locali attraverso il Comune, adesso pone il Comune in antagonismo con altre amministrazioni comunali per l'acquisizione, per la vittoria del bando e pertanto l'accaparramento delle risorse per fare delle politiche sul proprio territorio. Cioè il problema della competitività tra le persone, secondo questa società, è anche trasferito nella competizione tra istituzioni per raggiungere degli obiettivi. Ecco, io credo che va ferocemente corretto questo punto di vista per salvaguardare il ruolo dei comuni. Per quanto riguarda la manovra del governo Meloni, io credo che è una manovra contro i poveri. E anche qui sono d'accordo con chi mi ha preceduto. Da un lato segna un evidente continismo con le politiche di Draghi, che era alternativo invece al governo Conte II, che è stato un governo che per molti versi ha risposto ai bisogni delle esigenze della società in un momento drammatico con l'esplosione della pandemia, eccetera. Allora, l'attacco al reddito di cittadinanza, che dice togliamo gli occupabili, ma chi sono questi occupabili? Allora, se un metalmeccanico di piombino gli chiudono le acciaierie e perde il lavoro e acquisisce il reddito di cittadinanza e ti dicono guarda che tu hai solo una possibilità per mantenere il reddito di cittadinanza se non accetta, tu cur, di andare a Trieste a lavorare sul cantiere, poi non ho capito bene se è un lavoro a tempo indeterminato o determinato, se non fai questa operazione perdi il reddito di cittadinanza. Chiaro, costa più il trasferimento che ricevi lo stipendio da metalmeccanico. Cioè è un accanimento contro i poveri perché la destra da sempre considera la povertà una colpa. Questo è il punto. E nella sua idea gerarchica della società ripudia sia la solidarietà nella società che la cooperazione nella società tra i cittadini, i lavoratori e i soggetti interessati. Perciò io non riesco a capire bene dove vogliono arrivare perché togliere il reddito di cittadinanza mediamente di 500 euro, per l'esattezza 534, a 660 persone che non hanno un reddito, mi sembra un'operazione in un paese dove ci sono, come dicevi tu, 100 miliardi l'anno di evasione fiscale, dove è il paese con il più alto rapporto tra risparmio privato e PIL, cioè ci sono delle sacche di ricchezza essendo dall'altra parte la settima potenza mondiale economica è del tutto evidente che è così. E chiudo dicendo che io sono stato un fautore del superbonus che penso che è stata una grande politica kinesiana fatta dal governo Conte che ha salvaguardato l'ambiente e ha salvaguardato l'occupazione. L'occupazione. Il fatto che Draghi diceva abbiamo aumentato l'occupazione, l'abbiamo aumentata perché erano i provvedimenti del governo Conte che l'avevano aumentata. E l'aumento del 6% del PIL italiano è stato il frutto appunto del superbonus. Il superbonus, contattamente a quello che dicono questi della destra, sì è costato 38 miliardi ma ha prodotto 128 miliardi di PIL perciò è stato un investimento che ha reso più di tre volte quanto è costato. Allora anche qui sul superbonus io penso che dovrebbe essere reso strutturale per salvaguardare l'ambiente un settore in crisi come l'edilizia e per salvaguardare l'occupazione. Se tutto questo il governo dell'estero fa l'opposto è certo che c'è un problema che però riprenderà dopo di costruire l'opposizione al governo dell'estero. Andiamo a Stefano questo coordinamento 2050 ovviamente che coinvolge parte da Roma intanto qual è l'obiettivo di togliere finalmente quelle 50 sigle di sinistra che si presentano ad ogni elezione perché anche lì c'è un problema no? Perché poi magari... C'è un problema sì il problema è perché evidentemente le formazioni della sinistra che non riescono a raggiungere un elettorato minimo per accedere sulle dimensioni istituzionali significa che storicamente in questo momento non sono giustificabili. Le chiacchiere qui stanno a zero e bisogna prendere atto quello che è in questa congiuntura. perciò tutte le operazioni in atto che non vogliono disperdere un patrimonio di idee di militanza di esperienza che prendono atto che ci sono nuove forze e in particolare i 5 Stelle che ormai è il secondo partito del paese che pone delle questioni centrali. i 5 Stelle hanno posto la questione della pace e della guerra in grandissima solitudine istituzionale ma invece rappresentando una portissima preoccupazione nel paese e la manifestazione del 5 novembre la grande manifestazione del 5 novembre contro la guerra per la pace contro l'invio delle armi e per aprire la trattativa subito attraverso il cessato e il fuoco che sostanzialmente ha seguito le indicazioni strategiche fondamentali di Papa Francesco indica che c'è un diciamo un sostegno anche di mobilitazione importante e su questo i 5 Stelle l'hanno perfettamente centrata altre forze come il PD stavano un po' a Milano a dire forza Zelensky un po' stavano a Roma ma non è che il PD da questo punto di vista è il rappresentante oggettivo della Nato è quello che vuole fare la guerra come? la guerra la fanno fare gli ucraini e mandando le armi insomma questo è un punto dopodiché c'è la questione sociale i 5 Stelle rispetto alle altre forze politiche significative e cioè in particolare al PD ha posto la questione del reddito di cittadinanza pone la questione del salario minimo per legge pone la questione della riduzione dell'orario di lavoro insomma cose che altri non dicono e io penso che invece queste cose sono fondamentali e su queste va aiutato i 5 Stelle a maturare oltre che come è stato qui detto diceva Sargentini c'è tutta la questione ecologica che è una questione centrale non a caso è 2050 30 secondi per dire che mi ha molto colpito tutto il ragionamento politico amministrativo e programmatico di Gubbio su questo periodo del Natale che ha fatto il sindaco Stirati io da cittadino umbro ma perugino invece io dico al mio sindaco Romezzi che la scelta di tramutare la sala dei notari per un mese tra lo smontare e montare lì dentro degli spogliatoi per cantanti e ballerine a supporto della manifestazione finale del 31 dicembre della RAI penso che è un grave errore è un errore per la storia della città è un errore per la dignità del palazzo dei priori per la dignità della più importante sala civica della città e dell'Umbria e penso che sia un errore che vada corretto perché non possiamo piegare la città agli interessi e allo spettacolo ci sono dei punti che sono sacri e che non possono essere modificati alla mercè degli interessi anche che io penso è importante farlo a Perugia l'ultimo dell'anno della RAI perché è chiaro che c'è una risonanza ma la collocazione diciamo logistica non può essere la sala dei notari è evidente un comune che ha ovviamente una una sua linea anche strategica e politica e ha una sua specificità perché c'è perfettamente ragione il sindaco quando pone la questione dei due cementifici che possono oggi bruciare il CSS allora quando ho avuto un minimo di responsabilità a livello regionale ho sempre sostenuto che il CSS in Umbria non andasse bruciato io penso che questo è stato il punto ma sono avvenute delle modifiche sia a livello nazionale e mi è sembrato di poter anche intuire che sicuramente la giunta regionale non è che si è opposta a certe soluzioni e su gubbio è piombato diciamo dal mio punto di vista questo questo problema non secondario perché si è aperta la questione della possibilità da parte dei due potenti inceneritori di di bruciare il CSS che è ovviamente una fonte di profitto non indifferente pesando sulla sulla città in termini di occupazione questo è stato e da quello che io da esterno ho captato ho colto diciamo e ho apprezzato anche le capacità di mediazione dell'amministrazione comunale e la schiena dritta con cui il sindaco ha cercato di salvaguardare l'autonomia della propria amministrazione su questo ovviamente è un problema che esiste da sempre non è che è capitato sulla testa di stirati ma insomma sapevamo perfettamente che il problema è questo come c'è a Terni d'altra parte non è che voglio dire riguarda solo è un problema regionale perché bisogna affrontare la questione dei rifiuti a monte noi dobbiamo produrre meno rifiuti questo è credo la centralità su cui noi dobbiamo costruire una politica ambientale che sia in grado di essere sostenibile invece la nostra società compresa quella regionale nostra continua a produrre rifiuti rifiuti e rifiuti occorre anche un rapporto con le imprese un rapporto diverso con le normative nazionali ma anche una volontà da parte della regione di costruire dei percorsi che indicano delle novità da questo punto di vista perché altrimenti ci troveremo a smaltire sempre più rifiuti e sarà un problema per tutti da questo punto di vista e la questione ambientale oggi è una questione che riguarda Gubbio che riguarda le città dell'Umbria che riguarda la nostra regione che riguarda questo è fondamentale qui siamo andati di fronte al C27 che non è riuscito a concludere qualcosa di positivo qui tutti gli scienziati ci dicono che andiamo verso il collasso del pianeta noi siamo dentro una gabbia che ci dice da un lato che c'è la guerra che c'è una terza guerra mondiale a pezzi dall'altro che c'è l'insostenibilità di questo modo di produrre e di vivere imposto dall'occidente che rompe l'equilibrio ecologico del pianeta bisogna cambiare bisogna assolutamente cambiare e per cambiare io penso e concludo che occorre uno sforzo della politica di una politica rinnovata e che nell'immediato Sargentini e Pelucca e anche mi permetto anche al sindaco di dire che occorre creare un fronte delle opposizioni cioè occorre su una piattaforma politica che è sociale che è ecologica costruire una agenda dell'opposizione con chi ci vuole stare io non credo che Calenda ci starà mai ecco per capirsi ma se un pezzo del PD ci vuole stare c'è tanta parte della popolazione che ha bisogno di essere di avere un'altra visione di pensare a un'altra società un altro modo di produrre a nuovi diritti sociali a nuovi diritti civili ecco quello che io dico Sargentini è che non è che possiamo dividere la sinistra che si occupa dei diritti civili e quelli grandi dei diritti sociali no ci vuole la sinistra si deve occupare di tutte e due di tutte e due e non c'è una gerarchia c'è i diritti sociali e i diritti civili i diritti civili e i diritti sociali perché oltre che dare il pane ci vogliono anche le rose no e perciò il processo di liberazione ma questo dipende da che analisi si fa della società che bisogna innescare significa più libertà per tutti oltre che voglio dire le condizioni materiali che siano dignitose per tutti